Abbiamo scelto l'Istat, non è nostra materia, però abbiamo noi scelto di studiare questa nuova materia che ci serve appunto per tutti i progetti che abbiamo attuato e che stiamo ancora facendo. Sì, noi già abbiamo partecipato a un'altra, la nostra scuola, l'istituto Leopoldo Pirelli, ha partecipato già da tre anni al concorso di Milazzo, appunto della statistica, e quest'anno stiamo anche partecipando a un concorso internazionale per la statistica. E quindi ecco, siamo venuti anche come rappresentanza della scuola per far vedere i nostri risultati a tutti. Per conoscere la realtà dei dati bisogna appunto sapere come è stato rilevato e quindi l'Istat comunque ci insegna questo nuovo metodo.